Da giovedì 4 ottobre anche gli agenti della polizia locale saranno pronti ad intervenire col defibrillatore. Lo ha confermato il comandante di Lodi, Fabio Germana Ballarino, nel corso della conferenza stampa indetta dalla dirigenza dell'azienda ospedaliera per illustrare gli ultimi sviluppi del progetto Vitalodi. Come ha ricordato la dottoressa Seppe, il progetto ha lo scopo di rendere la città di Lodi cardioprotetta nel caso di infarti improvvisi. Si tratta infatti di intervenire entro i primi 5 minuti dall'evento per evitare danni permanenti al cervello. Di qui l'impegno dell'Associazione Amici del Cuore, creata anni fa da Mario Orlandi, nel dotare la città di defibrillatori e nel formare anche i comuni cittadini nel loro utilizzo. Tra questi gli agenti della Questura e Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale, che da giovedì saranno pronti ad intervenire in caso di necessità. In tutta la Lombardia, ha annunciato Alberto Zoli, artefice del Servizio Regionale di Emergenza Urgenza, sono oltre 100.000 le persone abilitate all'uso del defibrillatore, a partire proprio dalle forze dell'ordine. Prossimo passaggio del progetto Vitalodi, la firma in prefettura del protocollo che coordina gli interventi tra le varie forze in campo nel caso in cui un cittadino sia colto da un arresto cardiocircolatorio.